Ricetta. Pollo alla Kiev. Reading and PCS. Benvenuti al nostro corso di cucina. Oggi vediamo la ricetta Pollo alla Kiev. Ingredienti. 6 spicchi di aglio, un piccolo mazzo di prezzemolo, 5 cucchiai di mollica, 4 petti di pollo, 4 cucchiai di formaggio molle, 4 cucchiai di olio di oliva. Ricetta. Riscaldare il forno a 200 gradi. Mescolare insieme aglio, prezzemolo e un cucchiaio di olio. Aggiungi mollica e condimenti. Utilizza un mixer e versa su un piatto. Taglia una fessura nel lato del petto di pollo. Riempi con il formaggio. Spalma il tutto con olio. Premi sul piatto di mallica. Metti in un piatto di cottura. Cospargi con i rimanenti aglio intero e olio. Cuoci per 25 minuti finché è croccante e dorato. Spremi un aglio rostito e servi con pollo. Grazie. Spero che vi sia piaciuta la ricetta. Mettete like e iscrivetevi al canale. Grazie.